In queste due giornate che non ho preso gol ed è una cosa importante, per cui vuol dire che dal portiere all'attaccante hanno fatto un lavoro sensazionale. E se penso che di essere a 41 punti oggi avvertenuto testa alla temana sono più soddisfatto. Ma quello che voglio dire è che i ragazzi sono delusi, i ragazzi sono delusi perché ci credevano, perché sanno quello che stiamo facendo e come lo stanno facendo. Per cui ho dovuto calmarli un attimino perché la delusione per un pareggio con la temana non è vero, però ci può anche stare a 41 punti alla fine. Per cui da questo pareggio, da questa giornata, traiamo gli aspetti positivi e lavoriamo dal martedì per migliorarci e per andare a prendere i punti che ci servono con la serbezza, che soprattutto non so neanche quanto possono essere. Posso prendere a porle le ore? Da iniziare a porle le ore, da problemi. Quando mi resto aspetti salto fuori il risultato che non vede. Antena è sempre lì nella fine il suo sfide per salvarsi. Mister si aspettava una Ternana così arroccata in difesa? No, si è messa 3-5-2. Non me lo aspettavo, però come voi sapete per come giochiamo noi gli avversari contano relativamente, noi abbiamo i nostri riferimenti, abbiamo le nostre idee, per cui troviamo una squadra 3-4-5, per noi non cambia niente, il nostro riferimento è sempre quello e noi lavoriamo in funzione di quello che prepariamo durante la settimana e che non è mai in funzione degli avversari. Perché io credo che se voglio migliorare il livello qualitativo della mia squadra non posso perdere una settimana di lavoro a lavorare pensando di incontrare una squadra che gioca 5, la settimana dopo devo lavorare pensando di una squadra che gioca 5. Io devo lavorare sulla mia squadra, dare dei concetti forti alla mia squadra e far sì che la mia squadra questi concetti vi assimili e li abiti nel campo nel miglior modo possibile. Questo è il mio modo di vedere il livello. Gli avversari guardano, li studiamo, stiamo attenti, guardiamo tutto, però dopo non dobbiamo pensare a noi spessi. Solerio non poteva giocare da inizio? Solerio ha avuto dei problemi, Solerio e Lidio hanno avuto problemi in settimana, non avevano nelle gambe i 90 minuti, per cui avendo anche delle alternativi importanti ho preferito gestire. A me piace gestire perché voglio, esingo sempre non al 100% ma al 110% per tempo, per cui devi essere al massimo, se non sei al massimo piuttosto questo rischio risparmiato un pochino, ma avere la possibilità di stirare la gente che si è trattata. E come costringere già a te a mano, a cambiare modulo, a fare la difesa, a soffrire la gianos? E' un gran successo, è una soddisfazione, è una bella soddisfazione, sì, ma infatti questi ragazzi adesso hanno la delusione, però con passare del tempo, delle ore si accorgeranno che ha fatto una prestazione di livello di oggi, dove è mancato solo un gol. Soprattutto a centrocampo, ministrando centralmente, sia Pinto che Barba. Soprattutto oggi è stato monumentale, però anche dietro, a parte alcune vetture un po' magari ritardate o sbagliate, però anche dietro abbiamo fatto una bella partita, perché non era facile giocare contro due attaccanti, uno di spessore come Mario Ugo, perché insomma tutti dicono una termana, una termana ragazzi è una squadra di spessore. E poi ho incontrato tante difficoltà quest'anno, però quando hai giocatore di categoria superiore, il campo te lo gestiscono in un certo modo, e la forza fisica che ha un giocatore di un'altra categoria, come tanti della Ternana, lo senti. La Ternana, questo, l'ha messo in campo, però non si è stati bravi a non farci prevalere. Sì, 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 se hai due preposti di Fulcus, vediamo. Sì, anche di Funtour. Sì, sì, a me non ti guardi. Eh, a me non ci piace. A voler cercare proprio il primo ruolo, di un'ottima, con questa stazione, comunque forse i cambii oggi non hanno cambiato tanto rispetto al passato. Beh, sicuramente, magari ci si aspettava il gol di Jefferson, perché non è arrivato, però Jefferson lo stiamo ripostruendo, lo stiamo mettendo a bolla, speriamo il più presto possibile, perché abbiamo bisogno di lui. E sicuramente, per come lo vedo di allenarsi e per l'intensità che ha messo nei minuti che ha fatto, per me ha fatto una buona partita. Ha fatto una buona partita, è chiaro che da una punta ci si aspetta che entra e la risolve. Però gli altri mi sono piaciuti, ecco, avevo anche la possibilità di far giocare piccoli, però nel campo, diciamo che l'equilibrio di Pinto e Barber, in questo momento, mi sembrava difficile andare a toccare, ecco, anche se Pinto a un certo punto stava male e lo stavo cambiando. Però se Regi, in questo momento, mi sembrava cambiato sull'esterno giudice che non ne aveva più e davanti ho provato, anche con Capano, a cercare la giocata rapida, però non abbiamo più avuto la lucidità per giocare, per andare a cercarlo. Ho avuto queste palle lunghe, di conservenza su Jefferson e che Pano rimaneva in mezzo e non riusciva a... È stato più bravo, sotto l'aspetto del contenimento, di andare a giocare da centrocampista al giunto. L'ultima per me. Quando è arrivato? Ad oggi? Arrivato di oggi, ci avrebbe messo la firma o...? Beh, sicuramente mi ha fatto un cammino importante, mi ha fatto un cammino importante. Bello, esaltante, ma quello che più mi fa piacere è vedere la crescita del gruppo, vedere come questi ragazzi lavorano, come si applicano e com'è la voglia di migliorarsi giorno dopo giorno. E i risultati sono venuti di conseguenza, quindi gravi ore. Io cerco solo di farmi capire quale sono le dinamiche da seguire e loro ne mettono in pratica. Contratto con la prossima stagione? Non è un discorso che in questo momento voglio affrontare. Com'è il Presidente? Ci siamo visti la prima volta che ci siamo incontrati e in cinque minuti ci siamo dati la mano, non abbiamo neanche firmato, ci siamo dati la mano, ci siamo sentiti altre due volte e non c'è nessun tipo di problema. Però l'obiettivo più importante adesso è la salvezza del Presidente. Sicuramente tutto bene. Sicuramente, sicuramente. Però quello che il Presidente lo sa, prima la salvezza del Bargiana, quando il Bargiana salva dopo si può programmare qualsiasi cosa. Però non perché, anche perché sia dalla parte sua, c'è la volontà di... ma perché io non voglio sprecare un decimo delle mie energie per pensare al mio contratto. No, io devo pensare a salvare la Gianna perché è il convito che mi ha dato. Per cui, fino a che quello non sarà fatto, non si parlerà di niente. Però, per me è un onore essere alla Gianna, è un onore essere stato scelto e sicuramente è un piacere allenare la Gianna. Perché è bello l'ambiente, è bello lo stadio, è bello il tifo che c'è, che non mi piace. Per cui, per me, che alleno, ci sono tutti i presupposti per poter lavorare e per riuscire a lavorare. Sì, perché oggi il pubblico ha spinto fino alla fine. Ha spinto parecchio. Forse è una delusione dei ragazzi quella di non essere riusciti fino alla fine a regolare le gioie. Grazie.